Sempre stato a correre dietro a tutto, oltre alla palla pure dietro alla stessa carriera perché comunque sono partito dalla Lazio, ho fatto quattro anni nel settore giovanile dove ho fatto non si può dire bene o male perché comunque sei ancora piccolo, avevo dai 9 ai 13 anni e poi alla fine sono stato scartato, sono stato mandato via e quella per me è stata una grande botta perché comunque io ho sempre tifato la Lazio sostenuto e per me è stata una bella botta, non mi sono ripreso subito e sono andato subito a giocare a una squadra di Roma, di elite romana. Lì comunque pensavo che dico ora faccio gli ultimi anni che gioco a calcio e poi smetterò perché comunque era molto difficile e per divertirmi sono andato a giocare in eccellenza due anni dopo e poi da lì è partita tutta la scalata perché in eccellenza ho fatto bene, mi è arrivata una seconda opportunità in serie D, poi ho fatto DC, D di nuovo, C e ora B. Le opportunità ce le ho avute e le ho sapute sfruttare bene. Il tatuaggio My Family l'ho fatto per la mia famiglia perché loro sono molto importanti per me, hanno fatto tanti sacrifici da quando gioco a calcio, hanno fatto sempre tutto per me e quindi l'ho fatto per loro. Per me mia madre è una persona importantissima, lei è quella che ha fatto più sacrifici di tutti perché è sempre stata quella che mi ha accompagnato al campo, che mi arrivava a prendere dopo scuola, che mi preparava da mangiare, mangiavo in macchina e poi andavo subito agli allenamenti, quella che mi ha seguito dappertutto. Poi un po' di meno perché lavorava anche, mamma c'era questa opportunità e quindi mi stava sempre dietro. Ho avuto sia sconfitte in eccellenza, ho giocato a salvarmi in eccellenza, poi ho giocato a vincere in serie C, in serie D e poi a salvarsi in serie C. Comunque sono tante cose che ti metti nel bagaglio della tua esperienza e poi ti porterai fino alla fine, un campionato di eccellenza a salvarsi e ora a stare in serie B a 16 anni, chi l'avrebbe mai detto, no? Diciamo che purtroppo i settori giovanili in Italia non sono così, soprattutto pure alla Lazio c'è stata questa cosa qua, che il mio anno, la mia annata non è andata molto bene. Purtroppo quegli anni sono andati così, hanno scartato quasi tutti i più bravi, senza motivo e poi comunque io mi sono risentito con altri ragazzi della mia annata che ora sono, che giocavano con me, che sono arrivati in serie B, comunque hanno fatto percorsi importanti, anche in serie C che anche loro poi sono stati scartati.